Sono Carla Saveri, la vicepresidente del Club delle Balette e in questo caso rappresento anche la vicepresidente del Panotron Club di Iesi. A conclusione di una bellissima cerimonia che si è svolta, appena svolta, alla Sala del Consigliare del Comune di Iesi, abbiamo unito sport e cultura. Quindi con estremo orgoglio cittadino abbiamo mostrato le nostre bellezze di questa bellissima galleria Palazzo Pianetti. In questa occasione, come vicepresidente del Club delle Balette, sono stata anche così particolarmente orgogliosa di mostrare quelle che sono le nostre eccellenze, queste nuove palline da tennis del 500 che vengono da qui custodite.